Il salotto di Bike Show diventa TV, in onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com anche su HTB 8 XIII Est, frequenza 12149. Buonasera e benvenuti all'edizione numero 29 del trofeo Antonietto Ranciglio. Saranno ben 25 i giri da 4,4 km per un totale di 110 km, quelli che verranno percorsi dai rappresentanti delle varie categorie Under 23 ed Elite che daranno spettacolo tra qualche minuto a questo punto in questa grande classica del calendario italiano. Allora a questo punto da Bike Show TV una buona visione, buona serata a tutti, buon divertimento e buon ciclismo. Ciao! Ed ecco la partenza, un vitale con l'applauso del pubblico di Mario Bianco è partito finalmente in questo esatto in Sardegna, l'edizione numero 29 del trofeo Antonietto Ranciglio, più o meno e 12. Il tuo che lo porto è, dunque pronto per il grande spettacolo. Il tuo che lo porto è, dunque pronto per il grande spettacolo. il tuo che lo porto è, dunque pronto per il grande spettacolo. Il tuo che lo porto è, dunque pronto per il grande spettacolo. Sì Grazie a tutti 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 Tutto quello che gira intorno al ciclismo Grazie a tutti Un canale di solo ciclismo non c'era